Un europeo giocato da protagonista per Lorenzo Pellegrini e il mercato che si accende nei confronti del centrocampista romano. Milano e Inter ci avevano pensato in maniera concreta, qualche sondaggio anche con il suo agente Giampiero Procetta, ma Lorenzo Pellegrini ha in testa soltanto la Roma, questa la sua scelta per il futuro. Il club giallorosso ha apprezzato quelle che sono le intenzioni di Lorenzo Pellegrini e lo vuole anche premiare con un rinnovo del contratto fino al 2024, aumentando anche quello che è l'ingaggio fino a 3 milioni di euro e soprattutto c'è la ferma volontà di togliere quella clausola a 30 milioni che per il club giallorosso rappresenta uno spauracchio, sicuramente una forma di pericolo. Milano e Inter in questo momento sono vigili sul giocatore, anche il Tottenham aveva fatto un sondaggio piuttosto approfondito, ma nelle prossime settimane Lorenzo Pellegrini dovrebbe rinnovare il suo contratto con la Roma trattativo in corso per il rinnovo del centrocampista romano.